Arriva la prima vittoria di Spalletti da CT. Italia supera 2-1 l'Ucraina a San Sino e aggiusta decisivamente il girone. Di qualifazione verso la Germania. Azzurri, arrembanti, ottimo avvio. Sanof scivola, Zaccagni soffia palla e serve frattese che sblocca il match al dodicesimo. Centrocampista raddoppia al ventinovesimo dopo la ramba la sul tiro di Zagnoro. L'ottimo primo tempo è sporcato dal gol di Varolesco. Quarantunesimo su una palla che la difesa non riesce a spazzare. Il ritmo cala nella ripresa. Buscan prodigio su un raspadori. Laccagni impreciso. Da poco passi travessa di Locatelli. Sessantanoveso. Qualche imprecisione ma c'è la vittoria. Se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale. Campanella, notifica e un commento. Ciao. Saluto. Ciao. Ciao. Ciao.